Ciao a tutti i diavoletti! Oggi siamo qui per strada insieme al nostro cagnolino! E sapete cosa sta facendo il nostro cagnolino da stamattina? Sta piangendo! Eh sì? E sapete perché sta piangendo? Non perché deve fare i bisognini, ma perché vuole i pop-it! E non pop-it normali, ma quelli più rari e introvabili! Li vuole tutti! Vuole tutti i pop-it della città! Quelli più giganti! E infatti questa sarà un'avventura! Lo sentite? Sta piangendo! Vinci vuole proprio i pop-it! A lui piace spiacciare le palline con le zampine! In questo periodo sto sentendo molto parlare di pop-it, ma non ne ho mai provato uno! Invece il nostro cagnolino ne ha provati tantissimi e infatti ti piacciono molto! Ne vuoi ancora, vero? Andiamo alla ricerca di pop-it rari! E anche giganti! Siamo al primo negozio e dobbiamo sceglierlo! Allora, Hop, qui che cos'è? È un piede! Questo è una forma! Quale ti piace? Dai, scegli! Questo è il gelato! Che buono! No, Anto, è un muffin! Un muffin? Non ci vedo proprio bene! È questo? Uh, sono colorati! Uh, c'è anche il quadrato! Allora, Hop, devi scegliere, ok? Ecco il gelato! Ok, allora, Hop, devi scegliere fra il gelato, il muffin e questo cuoricino! Dai, Hop, quale scegli fra questi tre? Quale scegli? Vinci, perché hai scelto il cuore? Vabbè, dobbiamo prenderlo per forza! Vinci, posso sceglierne uno io? No, Anto, solo il cagnolino, alzati! Ora lo chiedo a Hop! Oh, posso scegliere un pop-it? Dammi un bacio se posso! Me l'ha dato! Ok, allora scelgo il gelato! Però dopo ne voglio uno anch'io! Diavoletti, abbiamo comprato i primi due pop-it! E Hop è felicissimo, guardate la sua faccia! Ne vuoi comprare ancora, vero? Io non sono felice perché voglio anch'io il mio pop-it! Guarda cosa c'è qui! Sono veramente rari! È un cane! Questa è una mongat gigante! Oh mio Dio! Ok, è il momento della scelta! Vai, Hop! Quale scegli, il cane o quello gigante? Si sta avvicinando a quello gigante! Lo prendiamo allora? Ovvio che sì! L'ha scelto! Chissà perché il nostro cagnolino ha scelto il pop-it di Among Us e non ha scelto quello della sua specie, cioè i cani! È molto strano! Oh mio Dio, Vinci, guarda! Questo che cos'è? Oh mio Dio, è questo? Un quadrato! Ok, Hop! Devi fare la tua scelta! In quale ti avvicini? Al cuore o al quadrato? Vinci sta guardando il cuore! Oh mio Dio, Vinci! Si è avvicinato al cuoricino! Ok, prendiamo questo! Questo che cos'è? Una conchiglia! Oh mio Dio! E questo? Che cos'è, Vinci? Non capisco! È un coccodrillo? Sì, è un coccodrillo! E questo? Che cos'è? È un cigno! Ok, Hop! Devi scegliere fra il cigno, le patatine... Oh, ci sono anche le patatine! È il coccodrillo! Fai la tua scelta, Hop! In quale ti avvicini? Alla patatina? Al cigno? O al coccodrillo? Si sta avvicinando, Vinci? Oh mio Dio! Le patatine! Ha scelto le patatine? Sì! Compriamo queste! E ora fai la tua scelta fra questi due! Chissà quale sceglierà! Oh, Hop! Quale ti piace? Oh mio... Il cigno! Ottima scelta, Hop! Sei proprio il mio cagnolino! Non me ne vado da qui, ti inchino ne scelgo uno io! Questo chiuso fa solo tu! Ho fatto la mia scelta! Sì! È questo! Vuoi questo? Un unicorno! Oh mio Dio, Vinci! È molto raro! Ok! Se il nostro cagnolino ti dà un bacio, puoi comprare questo pop-it! Se no, no! Dammi un bacino, Hop! Sì! Grazie, Hop è mio! Anto, prindimelo! Guardate quanti pop-it! Sono molto felice! E poi c'è anche il mio preferito, l'unicorno! Guarda la faccia di Hop! Com'è felice! Vinci, ma non credi che siano troppi tutti questi pop-it? Eh sì! Eh, abbiamo speso troppo! Secondo me dobbiamo finire! Andiamo... Hop! Perché stai piangendo? Lo senti? Sta piangendo! Vuoi ancora fare shopping di pop-it? Ok! Gli ultimi due negozi! Guardate, allora qui c'è questo che è molto raro! Guarda! Among Us nero! Poi c'è anche Among Us bianco! Questo? Che cos'è? Credo Pikachu! Non penso! Questo? È un orsacchiotto, Vinci! Che carino! Ok, è arrivato il momento di fare la scelta, Hop! Vai, quale scegli? Fra tutti questi pop-it? Perché si sta avvicinando sempre di più là? Vuole l'unicorno! Oh mio Dio, è molto raro! Guardate, c'è il panino qui! E questo che cos'è? Un drink? Non lo so! E questo è Mimmi! Ce ne sono tantissimi altri qui! Vinci, c'è anche la farfalla! Bellissima! Ok, hop! È arrivato il momento di scegliere! Quale pop-it vuoi? Il panino? L'unicorno già l'hai comprato? Il milkshake! Quale vuoi? Vinci! Il milkshake! Anto, credo che possiamo anche smettere di comprare! No, a Hop gli avevamo promesso l'ultimo negozio! Ok, diavoletti! Adesso il nostro cagnolino deve entrare nell'ultimo negozio! E deve scegliere gli ultimi pop-it! E adesso gli faremo scegliere uno gigante! Compreremo quello più gigante del negozio! Ok, Hop! Sceglierai quello gigante! Sei felice? Sono curiosa, sono curiosa! Aspetta, Vinci! C'è un altro negozio che mi affascina! Ce ne ha altri! Ha la tromba! Il microfono! E questo è qui un animale! C'è anche il dinosauro! Oh, tu quale scegli? Vai, avviciniamo! Vinci! La tromba! Vuole la tromba! Prendiamo la tromba! Stiamo per entrare nell'ultimo negozio! E sceglieremo quello più gigante e quello più raro! E quello introvabile! Qualcuno che non avete mai visto prima! Che ansia! Non vedo nulla di raro! Idem! Guarda, ci sono solo quelli piccoli! Una medusa, Vinci! Aspetta, qui c'è un quadrato! Ma non c'è nulla di raro! Oh mio Dio! Ma che cos'è? Un delfino! E' un pop-it raro! Eh sì! E' arrivato il momento dell'ultima scelta! Deve scegliere o il delfino o il quadrato! Vai, Hop! Speriamo il delfino! Speriamo il delfino! Hop, quale ti piace? Il delfino o il quadrato? Dove sta andando? Dove andrà? Diavoletti, questa è l'ultima scelta! Sta guardando il delfino! Oh mio Dio! Ha scelto il delfino! Tornati a casa con i nostri pop-it! Eh sì! Tutti i pop-it che abbiamo comprato sono in questa pusta! Ci hai fatto spendere troppo oggi, Hop! Vuoi solo farti fare delle coccole! Ci vuoi far dimenticare che abbiamo speso tutti questi soldi per dei pop-it! Solo per accontentarti! Infatti! Adesso! Che ansia! Vi faremo vedere tutti i pop-it che ha scelto il nostro cagnolino! Ok, prendiamone uno a casa! Prendiamo, prendiamo! Si sa quale sarà? Il cigno! Guardate! Prendiamone un altro! Quale sarà? La tromba! La sto suonando! Ti faccio ridere, Hop! Ok, qui abbiamo la tromba! E poi cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Le patatine! Ma non sono patatine reali, è solo un pop-it! Me ne ero dimenticato! Poi, cosa c'è qui? Vedo qualcosa di gigante! Qualcosa di gigante! Il pop-it gigante! Diamo un gas! E adesso, che ansia! Faremo schiacciare tutte queste palline ad Hop con la sua zampina! Vai, Hop! 1, 2... Guardate! Ha girato tutte le palline! E adesso è arrivato il momento della soddisfazione! Non vedo l'ora neanche Hop! È tutto emozionato! Sentite! Ti piace, vero, questo suono? Vai, vai! Ci sono ancora altre palline da scoppiare! Le sta finendo! Che bravo! Ha scoppiato tutte le palline! Bravissimo, Hop! Avete visto come gli piacciono i pop-it? Adesso prendiamone altri! Ce ne sono tantissimi da prendere! Infatti! E vi scioccherete degli altri pop-it che abbiamo comprato! Prendiamone un altro! Unicorno galassia! Oh, senti questo! Che bello! Ok, sta qui seduto ad aspettare tutti i pop-it! Prendiamone altri! Il cagnolino sta aspettando! Quale pop-it uscirà adesso? Che ansia! Il gelato! Quello che hai scelto tu? Chi ha dato un morso qui? Hop! Questo è il gelatino! Ti piace? Ok! Il cuoricino! Quello che hai scelto! Ti piace il cuoricino? Lo sta conoscendo! Ma ne vuole sempre altri! Vuole quelli più grandi, Anto! Guarda, è seduto su Among Us! Ok! Oh mio Dio! Cuore! È fatto proprio per te! C'è scritto anche I love you! Ti amiamo Hop! Guarda, ti piace tanto! Vai sul cuore! Che bello! Vai Hop ancora! Oh mio Dio! Questo è il suo nuovo pop-it preferito! Ok! Vediamo un po' cosa c'è qui! Il mio, il mio! Sì! L'unicorno! Ti piace Hop? Sì, ma non quanto il cuore, vero? Gli ultimi due! Il milkshake! È bellissimo anche questo! Ti piace Hop? Ma non è alla stessa altezza del cuore? Eh no! Vuole uno gigante? Ok! Adesso è arrivato il momento di far vedere l'ultimo pop-it! Quello più raro in assoluto! Quello introvabile! E a Hop piacerà tantissimo! Sei in ansia, vero Hop? Ok! Siediti sul cuoricino! E adesso ti faccio vedere l'ultimo pop-it! 3, 2, 1... Ecco! Guarda! È il delfino! È bellissimo! Il delfino gigante! Ti piace? Gli piace tanto! È molto emozionato e vuole scoppiare! Vedete la zampina? Ma c'è un piccolo problemino! Guarda! Oh mio Dio! Manca un occhio! Al delfino! Il nostro cagnolino sta piangendo! Oh, non piangere! Adesso aggiustiamo subito questo pop-it! Tranquillo! Ok! Metto l'occhio al delfino e sarà tutto riparato! Gliel'ho messo! Vai! Schiaccia, schiaccia! Oh, si è capito qual è il tuo preferito! Il delfino, Among Us e il cuore, vero? Ti piacciono i pop-it che abbiamo comprato oggi? Ne vuoi altri? Però tu vuoi spendere troppo! So che ti piacciono però! Il suo preferito è quello di Among Us! Si vede! Saluta tutti i diavoletti! Vai, un bel saluto! Ciao! E noi ci vediamo domani! Grazie a tutti